ciao a tutti ora vi faccio un veloce unboxing di una fotocamera coordinata appunto da amazon ed è la canon 600d non sarà una recensione ma giusto un unboxing tanto andiamo ad aprire ecco qua ecco qua canon 600d vediamo se con una mano ce la faccio pesantuccia appoggiamola delicatamente qua abbiamo carta e la ricevuta insomma dell'ordine buttiamo via questa scatola adesso passiamo alla canon ricevono preso da amazon a 580 euro circa rispetto agli 800 insomma che viene con un obiettivo quello di serie questa è la scatola qui abbiamo il contenuto abbiamo se si legge questo è dietro con le specifiche tecniche insomma il sopra al contrario e poi basta e di qua abbiamo ritrovato andiamo ad aprire carta istruzioni immagino giusto poche nascerà in più lingue almeno spero almeno spero e qui arriviamo al bel contenuto che ci interessa abbiamo cavi altra cosa altri cavi penso per il computer vedo una mini usb e la usb l'obiettivo che adesso vi farò vedere e altri cavi penso anche batteria carica batteria batteria cavi cavo per alimentatore e ora con delicatezza andremo a recuperare torcomacchina molto pesante almeno per me che non era abituato in quanto questa è la mia prima reflex cerchiamo di tirar fuori senza fare troppi danni ecco qua molto bello sembra molto solido compatto mi punnetura è veramente veramente una cosa unica secondo me non pensavo eos 600d canon obiettivo insomma dove andrà l'obiettivo veramente bello veramente bello appoggiando appoggiamola da parte sempre con delicatezza e qui troviamo appunto la batteria che vi dicevo questa qui poi poi il carica batteria con il relativo cavo che non andava ad aprire insomma l'obiettivo l'obiettivo quello che c'è di serie anche questo anche questo ovviamente è pesantuccio eccolo bello 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 che è è che che è che è che che è che è che è che è che è che è che il più e filbri creativi insomma questo è quanto dicevo che su amazon si trova con un buono sconto insomma di oltre 200 euro e qui a penso che avremmo il posto per la batteria la scheda o solo la batteria adesso non lo so la batteria sembrerebbe qui il posto per la scheda sd e qui abbiamo anche per il microfono esterno eccolo qua se si vuole collegare e qui per l'hdmi o edmi insomma è oltre il cavo av insomma per la tv ragazzi con questo è quanto penso insomma non avrei detto assolutamente tutto ma giusto un unboxing veloce è nulla di più vi ringrazio alla prossima